Nostro peale insieme a Kevin Peters che sta ripoffando la grande tradizione dei piloti lussamburghesi in particolare sta accettando, andiamo a vedere, ma non è mai una macchina attacca! Fiii, ma vieni! All'esterno! E' un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte si vede attaccato a questo stesso punto, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte che gli detestano, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte e poi andiamo, staccata alla posteriore sinistra, staccata alla posteriore sinistra, intanto con un terrore, e là di nuovo nasce il nostro Gianguti Marilli a seconda, Gianguti a seconda, grandissimo! Mario Maier, Imo Willis, grandissima prova dell'ex-patter, ex-patter, in quanto ormai la lettura è in arazione scuola, non è più in quei ruoli da scuola, ma per il Maier, grazie, buon'altro! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.